Che meraviglia gente, guardate, non sono animali selvaggi, non sono gli andai, non sono gli andai, non sono lontre e non sono cervi, sono cavalli, equus caballus, sono cavalline che pascolano, questo è bianco con le macchie marroni, come una mucca, una mucca peggiata. Al contrario delle mucche, queste appartengono all'ordine dei perestorattili, del sottordine degli equimorfi e della famiglia degli equini. Inoltre si dice avere una febbre a cavallo, che significa avere una febbre tanto forte. Inoltre ho portato il richiamo per le volpi, il richiamo per le allodole e il richiamo per i cervi. E poi il barattolo per gli infetti e il cannocchiale e dentro lo zaino. Inoltre il piccolo del cavallo si chiama puledrino. Che bel cavallo, che bel cavallo pezzato.